Splendida, fintamente casual, scollata e scusciata tanto da non lasciare spazio all'immaginazione. Capelli schiariti e raccolti con una pinza, canotta viola, hot pants bianchi, trucco accurato e tatuaggi a vista, Belen e Belen anche sul parquet di una scuola di danza di Castellana Grotte. Mentre il fidanzato Stefano De Martino fa da maestro ai giovani ballerini che partecipano allo stage internazionale di danza World Dance Movement, la bella Argentina non ha occhi che per lui, sorride ai fan, si presta alle foto di rito col cellulare, ma quando si accorge della nostra telecamera fugge via. Eppure ha obiettivi e occhi indiscreti e più che abituata, dopo aver mollato il re dei paparazzi Fabrizio Corona per rubare il fidanzato alla cantante del momento, la salentina Emma Marrone, è diventata la preda più ghiotta dei paparazzi. La coppia VIP dell'anno, la più fotografata, spiata e chiacchierata, ha portato un brivido gossip a Castellana Grotte. Una buona dose di pepe per il già succulento stage internazionale di danza, organizzato da Annalisa Bellini di Art in Scena con la direzione artistica di Michelle Assaf e Bruno Collinette. E domani granga la finale alle 21.30 in Largo Porta Grande. È un evento molto importante soprattutto per i ragazzi che hanno la possibilità, come vedete, di relazionarsi con realtà diverse. Quindi ci sono ragazzi francesi, americani, eccetera. E lo stesso anche vale per i coreografi che oltre a me e appunto a macchina del prete che siamo italiani, questa settimana sono tutti stranieri. Quindi un'opportunità per studiare, insomma per accorciare un po' le distanze oltreoceano. I ragazzi sono qui da una settimana, stanno affrontando diversi stili, diversi di danza e sono estremamente eccitati perché avremo anche un galà domenica qui a Castellana e siamo tutti molto entusiasti di poter mostrare quello che è stato il lavoro di una settimana e anche noi coreografi in prima persona siamo veramente felici di poter mostrare quanta dedizione, impegno e anche gioia nell'affrontare la danza.